Buon pomeriggio a tutti, eccoci alla seconda analisi del weekend, quella che riassume qual è la situazione ciclica sui vari indici. Passiamo al DAX, al tedesco. Il tedesco ha fatto esattamente quello che ci sospettava che facesse, partenza di un T inverso con questo movimento. Quindi anche questo era stato corretto, eccetera, eccetera. Cancelliamo già tutto ciò che poi è successo perché altrimenti non incastricciamo troppo il grafico, voglio dire. Ce la fai a chiudere? Bravissimo. Ok. Allora, ripartiamo da qui. Centratura di inverso, che è la parte più complessa da leggere. Abbiamo chiuso qui un mensile inverso a 42 barre o è più probabile che lo si sia chiuso qui a 32 e che il secondo sia già tutto vincolato a salire e che si è arrivato solo ed unicamente a 13 barre su minimo 24, minimo, ripeto, 24 e che quindi si possa cercare di continuare ad aggiornare i massimi fino come minimo al 7 di novembre. La seconda ipotesi è quella che mi piace di più, quello che ho appena descritto. Tra l'altro, come detto nella precedente analisi, abbiamo ancora fatto un top, siamo scesi, siamo risaliti e la forma delle ultime due candele diventa interessante. Abbiamo la condizione necessaria e sufficiente per la chiusura del secondo ciclo settimanale? La risposta è sì, perché abbiamo sei candele più il minimo della sesta, anche se verde. E anche se queste verde non ci interessano, sono sei più una, più il minimo. Abbiamo la condizione necessaria e sufficiente per far chiudere un T più 1, un ciclo a un'onda, due onde settimanali? Sì. Quindi può rimbalzare prossimamente, nei prossimi giorni a partire dal lunedì? Sì. Comprendete poi bene che, avendo soltanto 15 giorni sopra un minimo, abbiamo un ciclo bisettimanale che lancia un trimestrale, cosiddetto T più 3. In questo momento il ciclo sembra ben impostato per la salita, vedremo la prossima settimana soprattutto se riusciremo a superare la media mobile in rosso, quella 50 periodi e poi i livelli dell'accumo che però si è molto assottigliata, se avete notato. In ogni caso, continuando a valutare sempre per singolo swing tutti i movimenti, sia quelli dei T-3 ma anche quelli degli altri cicli, soprattutto questi superiori, noi di volta in volta ci predisporremo più a fare un long sui minimi che altro. Perché fare un long sui minimi? Perché abbiamo un mensile inverso, vincolato a ribasso, ovvero a far salire i prezzi. Il ribasso per l'inverso vuol dire che i prezzi salgono, quindi è il contrario rispetto all'indice. Se abbiamo un vincolo, vi ho già detto per quanti giorni si può provare ad aggiornare al massimo. Lato secondo T-3 inverso del secondo semestrale inverso, ricordiamoci che un semestrale, arrivato già a 96 barre, ne conta minimo 96. Quindi stiamo andando a cercare di andare a chiudere l'annuale inverso iniziato qua su insieme al biennale, perché ormai è un biennale, non è solo più un annuale. Quindi il movimento è questo. 202 giorni basterebbero a farci chiudere, qui non è aggiornato, sono 202, a farci chiudere un annuale inverso. Certo, 192 è il tempo minimo, ma abbiamo la condizione necessaria e sufficiente per la chiusura di un annuale inverso in questo momento? E' perché ci serve che cosa? Ci serve, guarda caso, un mensile inverso, che però non è completo perché ha 13 giorni su minimo 24, in media 32 e al massimo 43. E però lo stiamo costruendo probabilmente. Ok, ecco perché segnalavo di ragionare di andare long formato un punto di supporto, longare i minimi, andare long sui minimi. Passiamo al grafico a 15 minuti, 1, 2, 3, 4, 5, raccordo microscopico 6, quello che ha tratto e inganno tantissime persone qua. Perché se lo facciamo partire da qui, il sesso t-3 chiude a 44 barre. Se lo facciamo partire da qui, chiude qui a 36, poi si arriva fin qui e non si capisce più niente. Per cui, anzi doveva partire da qui in realtà, e qui saremmo arrivati a 41 barre, sì ok, e questa parte qua rimane isolata, che non può essere un raccordo tra un settimanale e un settimanale, perché dura meno di un t-3. Sono meno, eccole qua, 13 barre, sono meno barre di quelle richieste, almeno 21 per un ciclo che si possa definire giornaliero. Da qui stiamo partendo, importante adesso che nel gruppo premium mi chiedono, ma dove passa lo swing per la partenza di un nuovo t settimanale? È già stato superato qui? Sarà questo qua? Sarà questo qua? Noi abbiamo recuperato molto rapidamente quello che è diventato poi un death cross temporaneo, ma se riuncineremo e la rossa vi passerà sopra la blu, a quel punto lì continueremo appunto a valutare una salita. Se sapete dove passano gli swing, sapete anche se questo è, sarà, o un nuovo inizio per un nuovo settimanale, oppure l'ottavo, settimo, ottavo, nono, eccetera, eccetera, t-3. L'impostazione spero che sia comprensibile rispetto ovviamente al mensile inverso che è la centratura primaria che abbiamo, mi raccomando, fate sempre estrema attenzione prima a ragionare sul medio e lungo periodo, che cosa sta succedendo, stiamo salendo, siamo su un trend rialzista, ribassista, che cosa sta accadendo? E soltanto successivamente di pensare al tempo che è quello dei cicli inferiori. Prima superiori, poi inferiori. A quel punto eviterete sicuramente problematiche. Se, tra l'altro, gradite questo genere di analisi e non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale, intanto è gratuito, cliccate sulla campanellina, in quel modo non avrete bisogno di andare ad aspettare il post su Investing, su Facebook, ovunque, saprete immediatamente, vi avrete immediatamente avvisati, se cliccate sulla campanellina, se è uscita una nuova analisi evoluta oppure no. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata. Arrivederci!